Stipendi equi per tutti coloro che rischiano la vita per salvare quella degli altri. I vigili del fuoco nuovamente sul piede di guerra, alla base delle rivendicazioni, la norma contenuta nel decreto semplificazione che comporterebbe un aumento l'orto della mensilità di 13 euro. Una beffa e non una valorizzazione, scrivono i sindacati che per domani hanno organizzato una giornata di protesta anche ad Arezzo, dove comunque è stato scelto di non effettuare il presidio per non creare ulteriori disagi ai cittadini in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, spiega Alessandro Magnani, coordinatore provinciale della Federazione Nazionale Sicurezza della Cisla. L'aumento di soli 13 euro, i vigili del fuoco più giovani e neppure un centesimo per le pensioni dei più anziani, spiegano i sindacati, a fronte di uno stanziamento di 165 milioni voluto dal governo e deliberato in origine per valorizzare le retribuzioni di questi lavoratori, è irricevibile, così come non è accettabile il fatto che non sia stato coinvolto il sindacato nella contrattazione per la definizione degli aumenti. Il risultato è che la quasi totalità dello stanziamento è andato ai vertici e le briciole a chi ogni giorno dà grande prova di coraggio e abnegazione, così come è stato ampiamente dimostrato anche in questa emergenza sanitaria. I vigili del fuoco tornano così a chiedere un'equiparazione economica agli altri corpi dello Stato, per questo i pompieri sollecitano emendamenti al decreto affinché si possa ottenere una risposta retributiva equa per tutto il personale e i sescatti e fini pensionistici per tutti i vigili del fuoco. Infine sul territorio aretino Magnani lamenta croniche carenze strumentali e di personale, nonostante il sindacato sia da tempo lavorando per cercare di colmare il deficit e garantire così sempre maggiori qualità nei servizi alle nostre comunità.